Signore e signori, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Questa sera mi è stato chiesto di parlare di polimialgia reumatica. È una malattia di cui non si parla spesso, ma è una diagnosi importante da ricordare. Pensate che spesso si finisce per far finta che questa sia un'artrosi, un'artrite, un reumatismo, ma in realtà è una malattia tutta particolare. Vediamo. Prima di tutto è una malattia infiammatoria, polimialgia, lo dice la parola stessa, poli vuol dire più di uno, mialgia vuol dire dolori muscolari, quindi stiamo parlando di una patologia che colpisce i muscoli e più muscoli come vedremo fra un momento. È prevalente nelle donne oltre i 55 anni, c'è un rapporto di 1 a 2 fra uomo e donna e, ricordiamocelo, non è una malattia ereditaria. Quante persone colpisce? Nel nostro paese circa 13 casi su 100.000 abitanti si osservano. Quindi piccoli numeri, ma diagnosi importante, perché ne va della qualità della vita. Come si manifesta? Innanzitutto la rigidità, la rigidità soprattutto mattutina. Attenzione, non è l'unica malattia che dà rigidità mattutina, quindi che migliora muovendosi. Pensiamo all'artrite reumatoide, per esempio. Però è uno dei dati importanti. Assieme a cosa? A dolori. Dolori che colpiscono i muscoli, attenzione, abbiamo detto i muscoli, non le ossa, non è artrosi, non ha niente a che fare con le ossa. Dolori muscolari che possono colpire ovunque, ma prevalentemente i cingoli scapolari, le spalle, e l'inguine, cioè le articolazioni delle spalle e del bacino. Sono dolori che ovviamente non ti consentono di avere una vita normale e ovviamente se noi dovessimo prendere un farmaco sintomatico, non so, il paracetamolo piuttosto che un qualsiasi antidolorifico, beh, ci accorgeremmo che non funziona. E fra un momento vediamo anche il perché. Ci possono essere anche degli altri sintomi molto aspecifici, però li ricordiamo. In alcuni casi il tutto può essere accompagnato da stanchezza, qualche volta febbricola, dimagramento, scarso appetito, cioè tutti sintomi, ripeto, che possono starci con tantissime malattie, ma se accompagnati alla rigidità, specie mattutina e al dolore muscolare, come abbiamo detto prima, ci deve far pensare a un'ipotesi diagnostica di questo tipo. Attenzione, è importante quello che sto dicendo. Quando un soggetto affetto da polimegia reumatica dovesse avere un mal di testa, una cefalea di cui non ne ha conoscenza, cioè occasionali mal di testa, ma non è il cefalalgico che ha mal di testa tutta la vita, ebbene ricordiamocelo che nel 5-30% dei casi la polimegia reumatica si accompagna a quella che si chiama arterite a cellule giganti, malattia di Horton, cioè sono interessamenti dei vasi e in fronte addirittura sulla tempia si vede questa arteria temporale particolarmente evidente e dolente. Questo è importante perché? Perché allora stiamo parlando di una complicanza che va affrontata in modo rigoroso e leggermente più aggressivo. Come si fa a fare la diagnosi? Beh, la diagnosi è clinica, poi faremo gli esami del sangue alla ricerca di cosiddetti indici di flogosi, cioè quegli indicatori, la VES, la proteina C-reattiva, cioè esami che ci consentono di dire c'è uno stato infiammatorio, non c'è uno stato infiammatorio, la VES e la proteina C-reattiva sono espressione di un danno aspecifico di tipo infiammatorio. Una volta confermata la diagnosi, la terapia, ecco, la terapia non è quella dell'artrosi, quei soliti prodotti antidolorifici, ma la polimegia reumatica risponde in maniera critica, qualche volta rapidissima, al cortisone. Normalmente si usa il prednisone, il prednisolone, comunque a seconda del cortisonico che vogliamo scegliere, ovviamente ci saranno dei dosaggi adeguati. Bene, iniziando la terapia con un cortisonico, questi soggetti stanno bene quasi subito, addirittura uno o due giorni e stanno bene. Ovviamente a quel punto bisognerà impostare la terapia di mantenimento. Perché? Perché questi sono soggetti che devono prendere il cortisone per uno o due anni. Attenzione, prenderlo regolarmente. Il dosaggio, il dosaggio sarà da stabilire in base al caso clinico particolare. A questo proposito uno dei problemi che si presenta in questi casi è proprio la cortisonofobia. Quando tu dici a un soggetto guarda signora Rossi che deve prendere il cortisone per 18 mesi, ecco, crisi totale. Ricordiamocelo, la terapia cortisonica è una terapia importante che va gestita bene, però risolve il problema. Grazie, buonasera.